Eccoci, siamo dentro il reggio di Parma, siamo entrati come terroristi in un posto dove non devono entrare perché noi non c'entriamo niente, finché non siano d'accordo come ci manda via salutiamo tutti quelli che sono in Ateneo specialmente le ragazze bisognose di qualche anziano che vi aiuta, no, dei mecenati, quindi Davide, da anziani apriamo questo talent, questo talent, quelle carine, invece io sono quelle che sono brave, che hanno bisogno non so cosa ho detto, parma a Ateneo